In Spagna sono sicuri, Paul Pogba vestirà presto la maglia del Real Madrid. Secondo il direttore di Hockey Diario, Eduardo Inda, il giocampista francese non tornerà alla Juventus, ma si trasferirà in Spagna alla corte di Zinedine Zidane. L'annuncio dovrebbe arrivare già la prossima settimana. La trattativa è in fase avanzata. Florentino Perez ha offerto 80 milioni al Manchester United, più il cartellino di Bale che ne vale 90. Il costo complessivo sarà di 170 milioni di euro, sostegna il giornalista spagnolo. Nei prossimi giorni Pogba dovrebbe inoltre incontrare Soskier e comunicare l'intenzione di lasciare i Red Devils. Guai al volante per Marcelo. Il terzino del Real Madrid, infatti, nella notte tra lunedì e martedì, è stato fermato dalla polizia locale mentre era alla guida della sua auto per le strade brasiliane. Gli agenti hanno invitato il calciatore a sottoporsi all'alcol test. Il campione brasiliano però si è rifiutato, preferendo pagare una multa di circa 675 euro. A quel punto è scattato il ritiro della patente per un anno nel territorio brasiliano. È stata non certo brillante per Marcelo, dopo la non-convocazione per la Coppa America, nella quale il Brasile è finalista. L'ex direttore sportivo della Roma Monci vorrebbe fare uno sgarbo ai tifosi laziali e portare a Siviglia Luis Alberto. Secondo il quotidiano spagnolo Marca, l'ex DS della Roma avrebbe come priorità il centrocampista spagnolo della Lazio, ritenuto ideale per lo scacchiere di Lopeteghi. Monci sa che riportare in patria il 26enne cresciuto proprio nelle giovanili del Siviglia non sarà semplice e che comporterà un esborso importante per le casse andaluse. Dopo il brutto incidente ad Assen, in cui ha rimediato una frattura alla sesta vertebra, Orge Lorenzo resterà fermo per diverse settimane. Nel prossimo Gran Premio in Germania, il pilota spagnolo sarà sostituito sulla Honda da Stefan Bradl, attuale collaudatore della casa giapponese. Da quando lavora come test rider, il pilota tedesco aveva fatto tre apparizioni mondiali sulla moto ufficiale grazie a delle wild card, mentre l'anno scorso è sceso in pista due volte con i team Satelliti, LCR e Mark VDS. Sono felice di guidare la Honda nel Gran Premio di casa mia, ha spiegato Bradl. Ovviamente mi dispiace per Lorenzo e spero che recuperi il prima possibile. Nel frattempo darò il massimo per aiutare il team a ottenere il miglior risultato possibile. Grazie a tutti.